Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, allora abbiamo alcune reazioni per quanto riguarda il mercato del crypto bitcoin, un pochettino si è mosso ma soprattutto Ethereum si sta muovendo un po' meglio, c'è anche una reazione del Nasdaq 100 che la scorsa settimana fa un candelone verde importante ragazzi perché ha tirato su un praticamente più 8, 46% che per il mercato old comunque sono cifre abbastanza importanti Bitcoin ha tentato di recuperare alcuni livelli di prezzo, si è riportato nuovamente sulla sua resistenza più importante del bel periodo intorno a zona 42.000, è stato respinto per la 1, 2, 3, 4, quarta volta ragazzi e continua questa sua fase Però siamo anche in procinto di avere una scadenza ciclica estremamente rilevante, quella della fine del mese di marzo e da lì in poi ci giocano le nostre carte perché proprio entro pochi giorni il mercato potrebbe prendere in effetti questa strada leggermente più rialzista e fare il break che ci aspettiamo dei 45, 46.000, quello proprio vero, il break vero che potrebbe dare il via all'inizio di un nuovo trend rialzista per i mercati delle cripto, trend che probabilmente avrà magari qualche settimana contata quindi poi dovremmo stare a vedere dove va, dove non va eccetera però in linea di massima è positivo quindi analisi ciclica di bitcoin, andiamo a vedere ethereum perché sta dimostrando più forza perché c'è un costrutto di analisi ciclica su ethereum e sulla total market cap della defi quindi anche la defi è su questo costrutto, vi devo fare vedere una cosa stra importante e poi andiamo a vedere nasdaq 100 perché probabilmente ha chiuso il suo ciclo semestrale ha iniziato una nuova fase ed è e aprirebbe in questo caso a alcune settimane, un mese e mezzo di possibile fase di ripresa dei mercati poi si gioca un po' la carta come si dice del jolly perché alla fine del mese di agosto tra praticamente luglio, fino a luglio e settembre ci sarà la chiusura annuale sia di bitcoin, dei cicli annuali di bitcoin, cripto, nasdaq e chi si più ne ha più ne mente soprattutto in teoria è un maxi ciclo gigantesco ragazzi che durerà veramente da tanti tanti anni va bene allora per chi non si è iscritto ancora al canale vi lascio i link in descrizione, in descrizione al canale dovete premere il bottone iscritti al canale ragazzi va bene altrimenti se non mi iscrivete al canale ho deciso che butto il mio bitcoin gold e se lo butto finisce malissimo scherzi a parte ragazzi va bene allora andiamo a vedere la questione legata al mercato vi faccio vedere il grafico prima partiamo da bitcoin eccoci qui ragazzi allora bitcoin analisi ciclica immediatamente quella che facciamo come prima poi vi faccio vedere i dati anche di analisi tecnica ma quelli sono semplici ragazzi perché siamo in barra di congestione allora l'analisi ciclica è la più difficile in questa fase perché i mercati quando sono in barra di congestione sia da un punto di vista di analisi tecnica sia da un punto di vista di analisi ciclica un po' peggio forse per la ciclica danno fake, segnali fake perché danno segnali fake perché sono rumorosi i mercati oscillano in pratica intorno ad un unico prezzo e quindi danno dei segnali che sono quasi sempre un po' fake break da una parte stop dall'altra fake stop fake break fake take insomma un po' di fake generalizzati in realtà però ragazzi se avete un quadro di visione nell'ambito del trading di medio lungo periodo non intendo lungo decenni intendo comunque sempre ambito trading quindi qualcosa che possa durare qualche mese questi tipi di atteggiamenti li dovete mettere in conto in sostanza non si fa assolutamente nulla in questi momenti anche a livello di trading o fate dei trading allora cambiano un po' le cose potete fare veramente tante cose carinissime quindi se fate dei trading va bene a tanto proposito ragazzi per il day trading vi lascio il link in descrizione di delta exchange che è un exchange solo filo cripto dove potete fare veramente tante tante cose i volumi tradati su questo exchange sono cresciuti a dire basta quindi a numeri veramente importanti questo perché è un exchange fatto veramente molto bene quindi in tantissimi hai iniziato a utilizzarlo per l'attività di trading quindi ragazzi delta exchange anche perché vi danno una serie veramente di offerte di bonus di qualsiasi tipo insomma se andate a utilizzarlo ma soprattutto il 20% di quello che è il primo deposito lo usate per le commissioni di trading allora a me piace ragazzi perché ci sono tantissimi strumenti e ci sono tantissime cose che si possono creare soprattutto il funding è veramente basso rispetto a quello che si paga per esempio su strumenti che possono utilizzare i futures in Italia si può utilizzare per i futures attenzione non si può bonificare monete fiat quindi non potete metterci euro qua sopra dovete metterci crypto e prendervi crypto è un exchange in test da parte mia da sei mesi perciò con tutte le dovute precauzioni ricordatevi di fare attenzione perché è comunque fatto molto bene sono indiani ho fatto una recensione dove parlo di quello che è la parte sicurezza di delta exchange quindi lo ritengo molto molto interessante in academy da me lo usano tantissimi insieme a ftx insieme a prime xbt sono i nostri exchange più importanti vi lascio il link in descrizione se lo volete utilizzare perché in queste fasi di training se volete fare dei training è certamente l'exchange uno degli exchange che vi facilita un po' il compito quindi assolutamente da utilizzare e da testare link in descrizione e win win allora ragazzi per quanto riguarda la questione della fase ciclica dei training come vi dicevo ragazzi ok usate questi exchange che vi permettono di fare operatività sui futures fate il vostro trading e va bene così ma per analisi di diverso stampo quindi qualche settimana eccetera il prezzo di bitcoin è perno da praticamente due mesi quindi non si deve fare assolutamente niente se siete fuori restate fuori se siete dentro restate dentro se avete delle strategie le seguite ma in sostanza con analisi di medio o lungo periodo non c'è nulla da fare io una parte del tempo sono stato fuori in stablecoin sono rientrato con alcune percentuali perché uno dei miei trenzissime è andato long e uno trenzissime a bot holding e quindi sono rientrato seguendo quella macchina e continuerò a seguire quella macchina da un punto di vista invece di dei training sto facendo tante cose come vi dicevo su exchange delta prime e ftx allora per quanto riguarda la questione ciclica questo mensile è a teoricamente 25 giorni ora siccome noi lo consideriamo così teoricamente potrebbe terminare tra poco e beh in realtà sì ragazzi anche 30 giorni basterebbero quindi sono 5 giorni dalla chiusura del mensile quindi in teoria in questa fase noi siamo in una fase di sostanzialmente chiusura del ciclo mensile di bitcoin ci sono però delle differenze che ethereum sta portando per esempio e che quindi dobbiamo anche considerare nella fase di atteggiamento del ciclo mensile di bitcoin perché in realtà eth non è uguale come struttura intanto sembrerebbe che la struttura ciclica del mensile di ethereum possa essere stata chiusa già ragazzi con un mensile che praticamente è stato dal 24 di gennaio al 7 di marzo lo so sembra un po' strana questa struttura perché in realtà le cripto tipo le altcoin in generale a volte fanno cicli un po' più lunghi ragazzi ho fatto un video tempo fa dove vi facevo vedere i cicli da 70 per esempio che erano teoricamente due mensili un po' lunghetti 70-80 in questo caso ethereum potrebbe in effetti aver fatto un ciclo diverso questo lo vediamo anche se mettiamo la struttura a chiusure perché per esempio nella struttura a chiusure questo è un ciclo creato così cioè un ciclo che va vedete da un minimo a una struttura di minimo questo minimo è inferiore a questo quindi la questione è complicata perché anche qui è molto rumorosa e la struttura ciclica potrebbe aver iniziato una nuova fase su ethereum proprio dal 7 di marzo stessa cosa stessa fase ragazzi che potrebbe anche darci una spiegazione del perché ethereum rispetto a bitcoin in questo momento è più forte quindi da una parte abbiamo probabilmente quella che è la struttura di ethereum che è più forte dall'altra quella di bitcoin che è leggermente in fase di chiusura insomma sembra che siano scorrelate quindi probabilmente bitcoin sta andando a chiudere questa sua fase ciclica ethereum sta aspettando probabilmente insieme ad altre criptovalute la chiusura di bitcoin fate attenzione perché anche da qui si vede in maniera molto chiara un break dei 3.000 dollari per quanto riguarda ethereum in questa zona qui potrebbe innescare la conferma di quello che vi ho appena detto cioè se questo ciclo ha chiuso qui allora noi possiamo andare in break di questa zona se non lo fa allora potrebbe essere ancora un vecchio ciclo che diciamo magari è andato a chiudere insieme a bitcoin ha fatto una metà e poi dovrà fare la sua seconda metà ma se per caso ethereum brecca questi 3.000 dollari allora è come vi sto dicendo io il ciclo mensile di eth è stato chiuso il 7 marzo e allora a quel punto probabilmente assisteremo a una fase sinergica dove bitcoin riparte e facciamo una cosa di questo tipo poi la vera resistenza di ethereum è 3.300 questa zona qui però già questa è un'indicazione ciclica ragazzi perché se qui andiamo a breccare ci chiude sopra e fa un massimo superiore a questo qui allora da questo punto siamo in un nuovo ciclo è molto probabile questo insomma lo so che è un po' complesso magari per alcuni di voi perché le fasi ragazzi di questi cicli come vi dicevo prima sono più complesse nelle barre di congestione ci può stare bisogna accettarlo quindi dal mio punto di vista potrebbe bitcoin anche decidere di accorciare poco poco il ciclo mensile oppure in teoria aver fatto una struttura ternaria un po' anomala fatta in 1, 2 e 3 così che un po' porterebbe poi anche a una fase sinergica con ethereum poi in chiusura ad aprile insomma quindi verso il 7 appunto di aprile la prima decada di aprile quindi questa situazione è qui quindi ragazzi secondo me dalle informazioni che noi otteniamo dall'analisi ciclica non c'è una vera operatività perché abbiamo troppe possibilità operative in questo momento fermo restando che se bitcoin si inizia diciamo una fase di pump bisogna andare long ragazzi perché siamo in una fase up anche del ciclo di ethereum a quel punto confermerebbe che è già iniziato un nuovo mensile su ethereum che bitcoin probabilmente sta frastaiando ma è già poi su un nuovo mensile quindi bisogna andare long perché noi stiamo in una fase di attesa del ciclo semestrale ragazzi dei mercati cripto e probabilmente nasdaq lo ha fatto lo vediamo tra poco perciò poi non potete stare fuori dal mercato bisogna in realtà un po' anticipare l'ingressino perché se aspettiamo che bitcoin conferma breccando i 45-46 mila è troppo tardi ve lo dico in maniera molto chiara purtroppo come vi dico all'inizio anno in questo è l'anno dei traders per stare su questo mercato e fare questa operatività dovete essere dei traders altrimenti ragazzi dovete stare in old state fermi e poi ok se qui andiamo su va benissimo se poi però andiamo in chiusura annuale a luglio e le cose si mettono male siete punte da capo cioè questo è il problema già nel 2021 gli holders di bitcoin diciamo grande festa non ne hanno fatto e secondo me il 2022 sarà la stessa identica cosa poi vediamo ecco ovviamente se saliamo siamo tutti più felici ovviamente però questo break se dovesse avvenire un break di questo livello 45 su bitcoin probabilmente sarà accompagnato anche dal break dei 3.300 di ethereum una cosa del genere ragazzi state tranquilli che fa un super pump e su questo non ci piove perché qui si chiudono tutte le posizioni short vanno i stop loss gli short si chiudono le posizioni legate ai futures le coperture e tutto il resto quindi avremo un'accelerazione perciò andare qui long è complicato quindi bisogna un po' anticipare con delle tecniche di trading proprio nelle fasi di chiusura di questi minicicli sottostanti e andare a tentare il tutto per tutto non c'è un'altra soluzione questo anche magari ecco potremmo avere una conferma se eth riesce a rompere questi 3.000 se già eth si sposta qua sopra allora la possibilità long per il mercato cripto nei prossimi 4-5 giorni aumentano secondo me in maniera notevole quindi la possibilità che poi bitcoin tenti il break dei 45 può diciamo aumentare se invece ethereum non breaka qui e andiamo in chiusura siamo ancora in chiusura del vecchio mensile e c'è poco da fare quindi ovviamente ragazzi come vi sto dicendo non c'è da utilizzare queste fasi per fare dei buy senza avere l'esperienza da trader perché non ce la fate ve lo dico proprio in maniera chiara quindi se provate in questo momento ad agire sul mercato senza una formazione adeguata restate col cerino in mano vi bruciate a destra e a sinistra e se mincete è solo fortuna quindi io vi dico in maniera molto chiara se non avete esperienza state fermi restate nella stessa identica strategia che avevate prima di questa barra di congestione e studiate un pochino che non vi fa male se invece volete approfondire seguite un po' quest'analisi giorno per giorno e vediamo come andrà i livelli tecnici per esempio di breakout vi possono aiutare quindi Ethereum sopra i 3000 ok già da un segnale a quel punto magari un long su bitcoin protetto da uno stop loss perché no ci può stare ragazzi se poi va male va male però abbiamo un segnale quindi non state comprando a caso state seguendo delle logiche abbastanza interessanti anche perché vi faccio vedere la cripto della DeFi le cripto della DeFi probabilmente hanno già iniziato un ciclo semestrale e questo è interessante da andare a vedere allora ragazzi total market cap della DeFi poi vi faccio vedere il Nasdaq proprio per vedere se conferma questa view allora vedete qui nella settimana della gennaio 24 gennaio probabilmente abbiamo chiuso il ciclo semestrale della total market cap della DeFi perché ha fatto 220 giorni che è più o meno un semestrale delle cripto più o meno è questa la solita durata diciamo nella storicità delle cripto funzionano così e si vede molto bene se io vi porto alla non le barre ma appunto le close vi faccio anche vedere la questione perché delle shadow perché nelle shadow questo minimo sembrerebbe essere stato fatto il 21 di febbraio in realtà cambia poco ragazzi perché che sia stato chiuso qui il ciclo quindi in chiusura della settimana sul minimo in chiusura della settimana non in shadow quindi questa è la chiusura della settimana però vedete qui la settimana poi ha fatto ha tentato un doppio minimo in chiusura non c'è riuscito in questa zona qui poi ha fatto una shadow ribassista le shadow sulla total market cap su un mercato della DeFi considerarle sì è ok perché qui è un settimanale però ragazzi è una total market cap questa quindi cerchiamo di analizzarla con la giusta e dovuta flessibilità perché poi chi analizza questi dati al dettaglio non ha capito come funziona il mercato cripto ha poca esperienza del mercato cripto perché ci sono tante sfere di natura proprio macro economica diciamo così macro strutturale del mercato cripto che necessitano un approfondimento per capire perché una shadow nel mercato cripto ha meno valore rispetto a un mercato delle stocks per esempio e perché quella shadow che è la parte del minimo la parte bassa ragazzi a volte va considerata a volte no lo so è complicato però purtroppo ragazzi non c'è soluzione il mercato cripto è un mercato un po' diverso dalle altre cose quindi io cerco sempre di semplificarvi il più possibile il tutto e per tutto e quindi lasciatemi un pollice perché io faccio una fatica immensa a cercare di dirvi veramente le cose nel modo più semplice perché parlare nel modo semplice è la vera vera difficoltà ragazzi Einstein lo diceva no vi ricordate chi se sai spiegare le cose a un bambino vuol dire che le conosci molto di più di chi usa paroloni quindi non vi piacciono i paroloni ma potrei stare qui a dirvi i paroloni ma non avrebbe senso perché poi nessuno riesce a seguire allora questa è la questione confermata anche sul mercato della Total Market Cap della DeFi ipotizziamo che qui sia stato chiuso un ciclo semestrale ragazzi che quindi la Total Market Cap sia nella nuova fase del semestrale questo rialzo è anche sufficiente a chiudere i giochi ma soprattutto c'è una zona che è questa qui sopra che è pericolosissima in questo caso chi di voi è nell'Academy e già conosce questo pattern di inversione di medio-lungo periodo perché questo potrebbe essere quello che potrebbe succedere ed è di questo che ho paura ragazzi entro la fine del semestre del prossimo trimestre quindi veramente sarebbe il terzo trimestre quindi verso settembre di questo ho paura ho paura l'ho detto anche nell'ultima live ragazzi che abbiamo fatto col cartello qui da me è stata una super live intanto vi ringrazio perché siamo stati un botto di gente quindi avete fatto fare una gran figura e ovviamente gli altri youtuber sono stati i numeri uno come sempre quindi ci hanno aiutato però questa è la view che dobbiamo tenere a mente come il nostro spauracchio ragazzi quello che potrebbe essere una frase negativa nei prossimi mesi nella prossima settimana quindi io mi aspetto ancora un po' di forza per il mese di aprile e quindi voglio tradare long questo mese che verrà ragazzi quindi il mensile di aprile se questa cosa ci porterà poi su prezzi molto altri allora tutto ben venga e assolutamente altrimenti poi dovremmo prendere atto di questa cosa perché poi andiamo nella chiusura del ciclo annuale delle crypto e la chiusura del ciclo annuale l'ultima volta ha fatto meno 50 quindi dobbiamo stare attenti a queste logiche qui ragazzi se per chiudere diciamo tutti i puntini abbiamo questi diversi segnali sembrerebbe che Ethereum abbia iniziato già un nuovo mensile e che Bitcoin invece sia ancora fuori fase rispetto a Ethereum ma stia tentando di chiudere questa fase anticipatamente rispetto magari a fine mese quindi potrebbe farlo tra uno o due giorni se si mettono in fase entrambi e Bitcoin spinge io penso che Ethereum può dare botta breccare i 3000 e andare a indicarci una nuova fase mensile la total market cap della DeFi trainata per esempio da Luna e da Solana da altre criptovalute ha già indicato probabilmente l'inizio di un nuovo ciclo semestrale se questa indicazione è corretta vuol dire che per il mese di aprile quindi da qui ad aprile ma già comunque ragazzi la total market cap della DeFi ha già guadagnato qualcosina vedete anche se non sembra però da qui a qui un rialzo l'ha fatto e questo significa che alcune cripto della DeFi qui siamo a più 22 lo so è poco però alcune cripto della DeFi hanno già dato un trend rialzista quindi questa è la questione quindi da qua da qui in poi tutte queste indicazioni devono entrare in sinergia se entrano in sinergia noi possiamo avere aprile positivo e forse anche maggio però qua bisognerà poi vedere insomma la questione il tutto sempre dettato dal break di due livelli tecnici 3300 per Ethereum 45000 per Bitcoin tutto si unisce e si unirà da questi livelli quindi qua abbiamo la questione la negativa è che da qui si va in chiusura mensile a fine mese di marzo e con delle fasi di bassiste in questa settimana quindi si soffrirà questa settimana perciò non c'è soluzione ragazzi come vi dicevo prima fermi se non avete esperienza se avete esperienza divertitevi perché si ci può divertire se avete formazione esperienza nel trading in questa fase andiamo a vedere invece che cosa ci conferma il Nasdaq perché il Nasdaq qualcosina l'ha data ragazzi cioè ha indicato che probabilmente ha chiuso un ciclo semestrale e lo ha chiuso proprio nella settimana dove noi aspettavamo questa cosa ragazzi intanto questi erano i livelli che doveva raggiungere Nasdaq minimi per fare una chiusura semestrale guardate dove è andato esattamente qui poi ha fatto lo spikeone causa guerra in questa zona qui e poi è ritornato quindi probabilmente questo intanto lo togliamo che non serve più e a questo punto ragazzi potremmo avere la chiusura che è stata proprio fatta probabilmente in questa settimana dove avevamo indicato esattamente la stessa in close quindi se andiamo a utilizzare la linea di chiusura è questa settimana se andiamo ad utilizzare la shadow è la settimana successiva cambia niente quindi o 61 o 161 giorni o 168 giorni io direi in questo caso la shadow la considero perché il mercato del hold è diverso dalle crypto si può considerare anche perché è una shadow poco pronunciata quindi mi sta bene anche lì probabilmente Nasdaq è nella nuovo semestrale lo scopriremo entro questa settimana barra inizio della prossima ovviamente non facciamo trading quindi qui non interessa la questione delle posizioni di trading sul Nasdaq ma interessa la struttura ciclica perché ci dà un punto di riferimento anche per le crypto che come vedete sono un po' confusette e quindi utilizzando Nasdaq abbiamo anche un'idea generale di dove può andare il Bitcoin perché ancora la correlazione c'è non è non ha continuato a salire però ancora esiste quindi da questo punto di vista siamo posizionati molto bene sul Nasdaq perché se Nasdaq continua potrebbe iniziare a salire attenzione ragazzi che il vero segnale di forza si avrebbe solo al superamento di questa media ben lontano quindi questo rialzo secondo me potrebbe essere il rinvalzo del gatto morto perché qui abbiamo un 1 un down giù ma perché sto usando questo rosso voglio cambiare colore cambiamo colore datemi un bluette ok ok siamo qui 1 2 1 2 questa è la stessa identica configurazione che vi ho fatto vedere nella struttura della total math della DeFi ed è il problema di cui vi sto parlando aprile maggio dopodiché entriamo in fase chiusura ciclo annuale da lì in poi si rischia perciò abbiamo due mesi di tempo un mese e mezzo aprile e metà maggio per dare fiato ai mercati dobbiamo salire Bitcoin deve arrivare 52 54 mila me lo aspetto perché poi se andiamo in chiusura del ciclo annuale da questi prezzi troppo bassi si rischia tantissimo e la cosa non mi piace affatto ancora peggio i mercati old ragazzi che sono in hiperbolla lo diciamo dall'anno scorso lo dicevamo perciò rischiano tanto 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 soprattutto in una fase geopolitica come questa qui va bene ci sono delle chicche che vi vorrei fare vedere ma nei prossimi video ne parliamo tra cui questa chicca qui che è la vera 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 chicca cioè il grafico Bitcoin contro Ethereum ha una fase ciclica meravigliosa e che chiude un ciclo da 1400 giorni nell'anno 2023 ne parleremo ne parleremo perché è interessantissimo in quanto può indicarci se Ethereum nei prossimi mesi addirittura può riuscire a fare il famoso flippering ci riuscirà? sì no no sì sì no andiamo a vedere questo grafico perché vi faccio vedere il buono e il cattivo tempo perché questo grafico in effetti ci dà un punto importantissimo da tenere monitorato nei prossimi 3 6 mesi per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video e chi si è visto si è visto ciao raga ciao 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 ciao